Ultimi giorni per le votazioni del premio Primuladoro Oscar del Cilento. L'iniziativa del portale InfoCilento.it vuole premiare i cilentani e valdianesi che si sono distinti nel corso del 2015. I cittadini hanno potuto votare i migliori personaggi dell'anno passato, suddivisi in otto categorie. I premi Cilento Primuladoro saranno assegnati a coloro che si sono distinti nell'ambito della cultura, dello sport, del giornalismo, dell'imprenditoria, dell'associazionismo, dell'organizzazione di eventi, della gastronomia e della politica. Un nono premio alla carriera verrà infine assegnato da una giuria selezionata dal portale InfoCilento.it. Una prima fase del premio ha permesso di votare liberamente i candidati senza alcun nome imposto. Nella seconda fase, che si concluderà domenica invece, sono stati messi in nomination soltanto i cinque personaggi più votati di ciascuna categoria. In corsa, per il premio Primuladoro, per la cultura ci sono Franco Crispino, Giuseppina Di Stasi, Angelo Loia, Domenico Monaco e Vincenzo Pepe. Per lo sport, la società Baschetta Agropoli, la Calpazio, la Gelbison, la Polisportiva Marina di Camerota e la Running Agropoli. Per il giornalismo, Giuseppe Feo, Giorgio Mottola, Oreste Mottola, Anna Veria Salerno e Salvatore Serio. Per l'imprenditoria, BCC Montepruno, GMA Cilento, Lido Lentiscelle, Sirene Essenze, Tesi SRL. Per l'associazionismo, Banda Musicale Città di Agropoli, Esoes Palinuro, Progetto 21 Agli Astro Cilento, Proloco San Martino e Rotaract, Vallo della Lucania. Per gli eventi, Cilento Fashion Tour, Festa del Pane di Trentinara, Miss Parco, Sagra del Fusillo Felittese, Sagra dello Sfrionzolo di San Mango Cilento. Per l'enogastronomia, Giovanna Avoria, l'Istituto Anselchis, l'Osteria d'Ersilia di Perito, la Pasticceria Royal di Vallo della Lucania e Pietro Macellaro. Per la politica, invece, due le categorie, quella dedicata ai sindaci dei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti e quella dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Per la prima sono in corsa Antonio Aloia di Vallo della Lucania, Tommaso Pellegrino di Sassano, Silvia Pisapia di Casalvelino, Costabile Spinelli di Castellabate e Carmelo Stanziola di Centola. Per i comuni, al di sotto dei 5.000 abitanti, Rosario Occarione di Trentinara, Pino Palmieri di Roscigno, Francesco Palumbo di Giungano, Stefano Pisani di Pollica e Maria Ricchiuti di Novivelia. Per votare, basta accedere al sito www.infocilento.it e quindi cliccare sul logo degli Oscar del Cilento. Le votazioni si concluderanno domenica, ad inizio aprile, invece, si terranno le premiazioni. Grazie. Grazie.